Questo mondo di Minecraft è bannato in alcune parti del mondo. Ci troviamo infatti all'interno della mappa The Uncensored Library, un progetto uscito nel 2020 che oltre ad essere un'enorme mappa davvero molto bella, è anche e soprattutto una mappa che combatte la censura e promuove la libertà di parola. Ma in che modo? Nella sua enorme hall possiamo notare questo incredibile mappamondo. Questa mappa rappresenta le varie nazioni del mondo in base alla loro libertà di parola e alla censura. I paesi in nero diciamo che sono quelli con la massima censura. Questo speciale museo ha delle stanze dedicate a Vietnam, Russia, Arabia Saudita, Messico ed Egitto in particolar modo, dove oltre alle bellissime stanze è possibile davvero leggere alcuni libri. Libri che contengono dei testi censurati nella nazione di riferimento. Ovviamente non mi metterò ad aprire quei libri perché magari bannerebbero anche il mio video, ma sappiate che questa mappa è disponibile pubblicamente e tutti quanti potete scaricarla e consultarla.